Stamattina presso il cimitero di Piedimonte, frazione del comune di Barano d'Ischia, amici, parenti e conoscenti hanno dato l'estremo saluto a Vincenzo Matera, storico cameriere del rinomato ristorante da Cecilia. Personalmente ho avuto la fortuna di conoscerlo negli anni Ottanta, quando giovanissimo iniziai a lavorare presso il ristorante di Via Edgardo Cortese. Quello che mi colpì subito di Vincenzo furono le sue straordinarie ed impareggiabili doti umane ed il suo innato altruismo. La sua incredibile bondà d'animo lo rendeva un uomo fuori dal comune, e chi lo ha conosciuto può testimoniarlo. Taciturno e di poche parole, con i fatti e nel silenzio aiutava tutti coloro che per un motivo o per un altro potevano trovarsi in difficoltà, dai colleghi ai clienti, dagli amici agli sconosciuti. Chiunque avesse bisogno di aiuto, c'era lui a tendere la mano. E a tal proposito non potrò mai dimenticare che grazie alla sua umanità e alla proverbiale disponibilità della signora Cecilia, quel ristorante era diventato meta fissa dei poveri e dei bisognosi dell'epoca che trovavano per loro sempre un pasto caldo disponibile. Veniti a mezzogiorno in punto. Mi raccomando, diceva loro Vincenzo nel mentre col sorriso che gli illuminava il viso per la soddisfazione di poter aiutare concretamente gli ultimi della società, gli dava un'amichevole pacca sulla spalla. Non potete immaginare quanto amava dialogare con queste persone e la gioia che queste ultime provavano nel sentirsi così adorate e benvolute da Vincenzo. Graziucci e Papoti, il fratello e tanti altri, grazie alla bondata animo di Vincenzo, per qualche minuto si sentivano al centro del mondo, al centro dell'attenzione, parte integrante di una società che spesso riservava loro sfotto ed isolamento. Per le mie idee comuniste, per le discussioni che animavano il dibattito tra colleghi, Vincenzo mi soprannominò il sovietico. Per l'esempio di vita per cui è stato un autentico maestro, oggi Vincenzo meriterebbe titoloni di giornali e prime pagine in tv. Ma i buoni non fanno notizia in questa società infame, contraddistinta da cattiveri e disumanità, dove i titoloni sono riservati a furbastri e sfruttatori, parassiti e ricconi. Caro Vincenzo, la tua vita è stata una grande lezione di bontà per tutti noi. Grazie per avercela impartita con l'umiltà e la semplicità che ti hanno sempre contraddistinto. Grazie per avermi onorato della tua sincera amicizia. Grazie per tutti i consigli che mi hai sempre dato. Grazie infinite per la stima che mi hai riservato e che era reciproca. Grazie di vero cuore per aver sempre apprezzato il mio operato politico, sindacale e sociale a difesa degli ultimi della società. Gennà, certo che ci vuole un grande coraggio ad agire come fai tu, a metterti contro i potenti. Fai attenzione e pensa anche un po' a te, mi ripetevi ogni qual volta ci incontravamo. E quelle strette di mano forti e decise, che seguivano alle raccomandazioni che mi facevi, mi davano il senso della stima e dell'apprezzamento che avevi per la mia persona. Ancora grazie, Vincenzo. Continuerai a vivere in eterno nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerti e di chi, come me, ti ha voluto tanto bene. Che la terra ti sia lieve, caro amico mio.